Il neoeletto presidente della comunità di Valle, Mauro Malfer, ha presentato già questa mattina la nuova giunta, nonostante i seggi siano stati chiusi solo ieri sera. I componenti della giunta Malfer sono Patrizia Angeli, Michele Segalla, il sindaco di Nagotorbole Gianni Morandi e il vicepresidente della comunità, Carlo Pederniana. Alle 11 ha illustrato ai nuovi consiglieri, quasi tutti presenti, i nomi degli assessori e i punti salienti del suo programma per i prossimi 5 anni. A seguire poi l'incontro con la stampa, dove abbiamo raccolto la sua prima dichiarazione programmatica ufficiale. Siamo qui con il nuovo presidente della comunità di Valle, Mauro Malfer. Ci può spiegare in sintesi il suo programma per i prossimi 5 anni? Un programma impegnativo. Innanzitutto voglio sottolineare che la comunità è un ente istituzionale che chiaramente è un ente intermedio tra comune e province. Comunque serve. Vi declinerò qualche passaggio specifico, particolare, ma soprattutto vorrei sottolineare che la comunità non è al servizio dei comuni, i comuni non sono al servizio della comunità, le istituzioni, quindi comune e comunità, sono al servizio del cittadino. Questo deve essere un passaggio fondamentale. La comunità, 5 anni fa, soprattutto oggi, ha delle competenze importanti. Prima col comprensorio si interveniva per delega, oggi invece abbiamo competenze specifiche, abbiamo la possibilità di programmare, abbiamo capacità anche di spesa, soprattutto nell'ambito del sociale. Quindi una visione completamente diversa, soprattutto una gestione diversa. Le partite importanti, in estrema sintesi, sono quelle legate a partita urbanistica, documento preliminare, piano territoriale. Perché sottolineo questo ragionamento? Perché abbiamo sempre detto che come filosofia dobbiamo perseguire il giusto sviluppo economico, trovare il giusto equilibrio tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale. Ma soprattutto perché dobbiamo mettere in campo tutte quelle opzioni per far ripartire l'economia, soprattutto in questo momento drammatico. C'è ancora crisi, nel modo giusto, ripeto, coniugare nel modo giusto lo sviluppo con la salvaguardia ambientale, dobbiamo porre in essere tutte quelle opzioni, tutti quegli elementi, ripeto, per far partire l'economia. Ed ecco perché la stesura del piano territoriale diventa un elemento importantissimo. La legge, che adesso sarà oggetto di discussione in Consiglio provinciale, prevede che una volta definito e quindi approvato il piano territoriale per alcune funzioni a carattere sovracomunale, si possa intervenire da subito senza aspettare l'adeguamento dei rispettivi piani regolatori. Quindi questa è una partita importante perché ci permette di guadagnare il tempo. Piano territoriale perché nel piano territoriale si intrecciano tutta una serie di partite importanti che riguardano chiaramente l'economia. E' inutile adesso andare a sottolineare tutti i vari passaggi, i vari elementi. Diciamo che diventa fondamentale per lo sviluppo nel modo giusto, nel modo equilibrato per il nostro territorio. Sapete benissimo perché dico potenziare, far ripartire l'economia perché poi il territorio può beneficiare dal punto di vista economico a fronte di tutta una serie di partite e quindi per il particolare tipo di tassazione che è vigente in Trentino abbiamo la possibilità chiaramente poi di sostenere in modo adeguato il welfare. Il welfare è un'altra partita importante che la comunità, come dicevo prima, gestisse in prima persona. Abbiamo 10-12 milioni di risorse da gestire e chiaramente cercheremo di gestire al meglio come abbiamo fatto fino adesso comunque migliorando perché c'è sempre da migliorare. Quindi l'altra partita importante è quella della gestione ancora mi auguro e spero con quelle risorse per quanto riguarda il servizio socioassistenziale soprattutto in questo momento anche qui drammatico perché ci sono veramente delle criticità partita che riguarda appunto il servizio sociale. L'altra partita importante riguarda adesso anche riorganizzare il servizio di polizia locale. Dal punto di vista tecnico il rapporto organico deve ritornare in capo ai comuni ma il rapporto funzionale può rimanere in capo alla comunità e su questo abbiamo già ragionato con i sindaci che quindi da questo punto di vista il servizio sarà fidato ancora a comunità. Quindi questo ragionamento sulla polizia locale. L'altro tema forte e importante che dovremmo portare a compimento seguendo chiaramente le indicazioni o comunque quello che abbiamo già fatto in questa prima consigliatura è quello che riguarda la raccolta dei rifiuti. Oggi non abbiamo più la gestione della Masa perché è in capo alla provincia. L'altra partita importante è quella che riguarda la raccolta dei rifiuti. Un appalto importante europeo che supera i 15-20 milioni di euro. Abbiamo già fatto dei ragionamenti chiaramente in questi ultimi due anni. Dobbiamo portarli a compimento e nel giro di un anno e mezzo o due dobbiamo chiudere la partita per la raccolta dei rifiuti porta a porta e stradale. Porte aperte a tutti. Quindi io sono convinto che con il lavoro di tutti potremmo dare un servizio al cittadino perché è quello che si aspetta al cittadino, soprattutto in questo momento, il cittadino si aspetta delle risposte forti e chiare. Infatti nell'ambito del mio programma il capitolo più importante è quello agire per il futuro. Basta progettare nel senso che partita importante l'abbiamo già messa in campo. Qui adesso dobbiamo avere delle certezze proprio perché dobbiamo dare un segnale forse verso l'esterno, dobbiamo dare un segnale di speranza. Siamo qui con Gianni Morandi, sindaco di Nago Torbole e unico sindaco presente nella giunta della nuova comunità di valle. Certo, io sostanza a seguito della modifica normativa sulla composizione della comunità di valle le conferenze dei sindaci non sono più previste, noi la facciamo informalmente, però abbiamo deciso unanimamente come conferenza dei sindaci quindi di far partecipare uno dei sindaci all'interno dell'esecutivo della comunità di valle. Il sottoscritto si è sacrificato nel senso che ho dato la mia disponibilità a partecipare e quindi a lavorare a servizio della comunità e di collaborare anche perché a scanso di equivoci vorrei precisarlo che da sindaco faccio parte della giunta ma non percepirò nessuna indennità quindi lavorerò a titolo gratuito e quindi lo farò da una parte veramente per essere presente, per lavorare ma anche perché, questo per tranquillizzare anche i cittadini chiaramente del mio comune, che non è un ulteriore aggravio per cui sarà a scapito del lavoro che dovrò svolgere sul mio comune. Anzi è in continuità e soprattutto in un plus che potrò dare al mio comune nel senso che la mia partecipazione sulle partite, vedi la polizia locale, vedi l'edilizia abitativa, la scuola che abbiamo anche noi i nostri problemi nell'apertura, poi la mensa eccetera insomma sono tutti problemi che riguardano il comune ma che riguardano la comunità e lì potrò lavorare maggiormente anche e soprattutto a servizio della comunità e della mia comunità nel particolare.